Buongiorno, sono Katia Mulazzani, sono la titolare dell'azienda Sarmic Peak. Noi siamo dei produttori italiani di tutto quello che è l'abbigliamento per il Cavaliere. Siamo venuti a Verona perché riteniamo che questa sia una vetrina molto importante, soprattutto per presentare la nuova collezione di abbigliamento per la prossima primavera e estate dedicato a tutti i cavalieri.